Buongiorno, ciao, buongiorno, ditemi, vorrei vedere delle macchinine, che tipo di macchinine vorresti vedere? La Lamborghini, le Lamborghini, ho una macchina di Lamborghini, una Lamborghini, mi dispiace, cinque minuti fa è venuto un bambino e ha preso le ultime due che c'erano, ne erano rimasti solo due, un'altra macchina non ti andrebbe bene, guarda, lì ne abbiamo rosse, gialle, blu, vuoi andare a vederle? Andiamo, vieni, ne ho una gialla, ho quella rossa, lì ce ne ho un'altra blu, ho questa qui, no, la Lamborghini, questa? No, la vuoi vedere meglio da vicino, no? Questa ti piace? Non è bella come la Lamborghini però, questa? la mettiamo dentro, perfetto, grazie mille, buona serata, arrivederci, ho questa qui, tu volevi proprio la Lamborghini? Sì, davvero? Sì, l'abbiamo trovato, vieni con me, vorresti salirci sopra? Sì! Sì, l'abbiamo trovato, vieni con me! Grazie.